Abbiamo lavorato molto bene attorno a tre domande fondamentali che riguardano il problema delle politiche di immigrazione in Europa, cioè gli aspetti demografici che sono spesso sconosciuti ai cittadini e che quindi creano anche un approccio al problema un po' distorto. Quindi l'Europa si deve rendere conto che siamo in un continente che sta invecchiando, anzi che è già invecchiato, che le competenze anche delle persone stanno invecchiando e che abbiamo bisogno di, se vogliamo mantenere un livello di welfare pari almeno a quello che abbiamo, dobbiamo avere nuovi lavoratori, nuovi cittadini, lavoratori che arrivano. Poi c'è il problema del Mediterraneo, il Mediterraneo visto come opportunità e non visto come problema appunto perché dobbiamo ricordarci che una parte dei flussi migratori, quelli poi che impressionano di più i cittadini, sono quelli di profughi fondamentalmente, che non vengono dalla sponda sud del Mediterraneo ma vengono dalla Siria, vengono dalle zone di guerra, quindi Eritrea, Etiopia, Mali, Gambia eccetera. E poi il problema della cittadinanza, cioè c'è un problema di rinnovare l'approccio europeo ed italiano nei confronti dei nuovi cittadini europei. Quindi c'è un problema di modello, cioè che modello sceglie, il modello dell'integrazione tipo la francese o il modello comunitario inglese, in cui vediamo che in Inghilterra hanno mantenuto una certa coesione fra le comunità di immigrati, mentre invece in altri paesi l'approccio è stato diverso. Quindi insomma note molte le questioni aperte su cui si è dibattuto. Qual è l'opzione più richiesta all'interno del workshop rispetto allo USOLI? Credo che ci sia in generale un approccio favorevole allo USOLI, naturalmente poi in un certo modo bisogna vedere in che modo applicarlo, diciamo non allo USOLI automatico ma applicato in un certo modo o a una certa età, insomma comunque insomma è chiaro che l'approccio va cambiato, cioè non possiamo continuare ad avere delle persone che risiedono da noi e che lavorano in questo paese o in un altro paese dell'Unione Europea per 20-30 anni, i loro figli che nascono qui e che vanno a scuola con i figli dei locali, tra virgolette, e sono stranieri. E poi il problema peggiore in effetti, quello che è emesso, è che è proprio quello della seconda generazione spesso, perché non sono più marocchini, non sono più algerini, non sono più tunisini e non hanno il diritto di essere italiani, quando non parlano spesso nemmeno più l'arabo o la loro lingua di partenza. Quindi questa situazione va risolta in positivo, perché poi la soluzione è in positivo per noi, perché se tu sei portatore di diritti, credo tu sia portato anche ad integrarti nel paese in cui vivi. Secondo me l'Italia è ancora indietro culturalmente rispetto a queste tematiche, sia gli USOLI che le loro seconde generazioni. Lo siamo tutti indietro, credo, perché la crisi economica che cosa ha fatto? Ha fatto sì che abbiamo perso, uno dei fondamenti del percorso di integrazione europea era la solidarietà, e noi ce ne stiamo dimenticando, perché con la crisi ognuno diventa più egoista, si chiude a riccio nei confronti degli altri e quindi ognuno tende a salvaguardare quel che ha, non capendo che invece l'apertura crea nuove opportunità. Non è che restringendoti e proteggendo il tuo piccolo particolare tu ti proteggi dalle crisi, anzi lo affronti male, lo affronti in un modo riduttivo. Quindi c'è un cambiamento di passo, se vogliamo dire, da fare a livello europeo. L'Europa deve darsi delle politiche coordinate di immigrazione e deve concordarle con i paesi di emigrazione, anche questo è un altro approccio. Abbiamo detto che dobbiamo lavorare assieme ai paesi di emigrazione per far sì che coloro che arrivino arrivino già anche con una certa base. Si è parlato anche di una specie di Erasmus euro-mediterraneo. Sono tante le proposte che potrebbero migliorare quello che facciamo oggi. Grazie a tutti.